Il premier israeliano Benjamin Netanyahu tuona mentre la ripresa delle ostilità tra Israele e la striscia di Gaza sta di nuovo aggravando, si parte di un Medio Oriente sempre più simile a una polveriera. Le vittime a Gaza sono arrivate a 22 morti e almeno 70 feriti da quando è iniziata l'escalation. L'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione in un raid aereo delle prime ore della giornata sulla striscia di un combattente della jihad islamica. Nel primo attacco, compiuto nella notte tra lunedì e martedì, nella striscia è stato ucciso Baha Abu al-Atah, individuato dal governo israeliano come il principale responsabile del lancio di razzi dello scorso maggio dalla striscia contro Israele. Nel frattempo, nel vicino Libano si moltiplicano le proteste e la folla è scesa di nuovo in strada a Beirut e in diverse città del paese, scandendo slogan contro il governo. Il tutto dopo che il presidente Michel Aoun ha difeso il ruolo dei suoi alleati, il movimento Shita Hezbollah, nel governo libanese. Le proteste stanno paralizzando il paese ormai da settimane.